Telepiù, la scabile, 148 pagine a colori, in tutti i programmi tv, Telepiù, in edicola solo 800 lire. Adidas, 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 Adidas. Buongiorno. Buongiorno, vorrei un Olympus. Olympus? Ma non c'è che l'imbarazzo della scelta. Carina questa così piccola. È la AF10. E cosa fa? Questa fa tutto da sé, guardi nel mirino. Ha la messa a fuoco automatica, basta mirare qui. C'è poca luce. Niente paura, ci pensa il flash. Automaticamente. Ha persino l'autoscatto. E in più... Voglio quella. È contenta? Certo, volevo un Olympus. E AF10 è una Olympus. Time, time, time of the world. What's the time? Different time. Anytime. Downtown. Now's the time. Now's the time. Better tuned by Buller. Tu hai un gran bisogno di stabilità e di equilibrio. Prova il mio Seven. Seven. Appassionatamente il tuo zaino. Se... Se viaggi pesante... Oppure viaggi leggero. Prova il mio Seven. Seven. Appassionatamente il tuo zaino. Secondo voi, cos'hanno in comune tutte queste automobili? A prima vista, niente. Eppure... Sono tutte vetture usate. Sono tutte occasioni auto-expert. Selezionate e messe a punto dai concessionari Alfa Romeo. Con tutta la professionalità e l'esperienza di chi tratta i motori con passione. Auto-expert. Le occasioni internazionali dai concessionari Alfa Romeo. Elettrici ed elettori. Se volete un'amministrazione stabile, Se volete assicurare a voi e ai vostri figli un progresso certo e più giusto, la strada più sicura è quella di votare per la democrazia cristiana il 29 ed il 30 maggio.